E' stato inaugurato in via Merigo Verde Spucci, lo sportello spazio comune per l'integrazione e la cittadinanza dedicato alle persone rifugiate e richiedenti asilo In questo modo molti dei servizi strategici per l'integrazione e l'inclusione vengono concentrati in un solo luogo Questo è un luogo di tutti, della consulta degli immigrati soprattutto di tutte le associazioni che si occupano di immigrazione e di rifugio e di rifugiati e siamo felici perché diamo lo spazio a un bene confiscato completamente ristrutturato grazie ai fondi della Regione Campania e iniziamo delle attività in maniera operativa per il bene dei cittadini Da anni che abbiamo chiesto uno spazio che possa accogliere le esigenze delle associazioni che si occupano di immigrati e specialmente delle diaspora che stanno su questo territorio quindi per noi è una gioia immensa oggi inaugurare questo spazio comune Comune perché è di tutti, grazie mille Lo sportello spazio comune è allestito in un locale confiscato alla criminalità organizzata Un bene che rientrava nel patrimonio della Camorra poi viene restituito alla società civile Questo è il nostro obiettivo e l'obiettivo che l'amministrazione comunale vuole portare avanti per dare una destinazione d'uso sociale a beni che sono stati il frutto di attività criminali e che ritornano alla collettività, alla società, alla comunità in termini di valore aggiunto per destinazioni sociali Il progetto rientra nel programma nazionale dell'Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite con le principali città italiane che hanno sottoscritto la Carta per l'integrazione Bellissima iniziativa che il Comune di Napoli sta portando avanti insieme all'UNHCR che mira all'integrazione dei rifugiati in questa città che fa parte di un gruppo di altre città, di altri comuni che hanno preso a cuore l'importanza dell'integrazione dei rifugiati che è una cosa estremamente importante per i rifugiati ma ancora di più per la cittadinanza italiana per assicurare che le persone possano veramente essere parte integrante della nostra società e contribuire ad essa Ci sono più di 60.000 emigranti in Comune di Napoli per quasi 40 anni di vita la maggioranza emigranti non ha trovato un spazio per le riunioni una raccolta, un sportello però per il momento è risolto questo problema andiamo avanti così più forti Grazie 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 Grazie